Una normale giornata Capo, sta arrivando! Ehi ma, ma come stai giocando? La tv è spenta Stai a scendere, stai a scendere Stai a scendere Stai a scendere Ma dov'è? No! Ma chi cazzo è? Io ho paura della burla umana Ma chi cazzo è? Ma chi cazzo è? La burla umana Prossimamente ai cinema Capo, sta arrivando! Ha 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 ha